Adesso torniamo sull'isola di Ischia, questa volta per una buona notizia. Semaforo verde, infatti, all'isola del Golfo, il mare di Ischia promosso dai tecnici dell'ARPAC. Una buona notizia, soprattutto in vista della stagione turistica. Il mare di Ischia è limpido, cristallino, pulitissimo. Parola di Regione Campania ed ARPAC. Proprio la Regione ha dichiarato che le acque circostanti l'isola verde sono tutte di qualità eccellente, fatta eccezione per quelle antistanti il Piemonte della Misericordia a Casamicciola Terme. I risultati sono stati pubblicati sul burc della Regione Campania. I prelievi di acqua e mare e le relative valutazioni sono state effettuate dall'ARPAC. Un risultato insperato per le acque che circondano Ischia, da sempre additate come inquinate, a causa della mancanza di depuratori che impediscono l'immissione in mare delle nostre fogne e che invece adesso vengono rivalutate al 100%. Una mappa della balneabilità, griffata Regione Campania, che se quest'anno fa sorridere l'isola, in quelli passati aveva creato non pochi grattacapi. Qualche anno fa, infatti, proprio la Regione arrivò a dichiarare non balneabili spiagge storiche di Ischia, quali quella degli inglesi e di San Pietro. Un vero attentato all'industria vacanziera. Anche quell'allarme in realtà poi rientrò con le seconde obbligatorie analisi delle acque, ma ormai il danno era stato fatto, considerato che i maggiori mass media avevano già dato la notizia del divieto di balneazione sulle spiagge ischitane. Nel 2012, come del resto anche nel 2011, qualche grattacapo lo regala dunque solo Casa Micciola, ma in una stagione turistica che si preannuncia quanto mai difficile e complessa, avere la benedizione dell'acqua pulita dall'ARPAC è comunque un biglietto da visita da esibire con orgoglio.